Sulla scia di quanto già testato in altri comuni italiani, a vasto il sindaco Francesco Menna si prepara a firmare l'ordinanza che farà del suo comune, il primo in Abruzzo, ad analizzare il DNA delle deiezioni canini abbandonate in strada per moltare l'inciviltà dei padroni degli amici a quattro zampe. Lo spunto, che arriva dal comune piemontese di Carmagnola, ora è stato ripreso anche dalla città costiera della provincia di Chieti, dove le continue e numerose segnalazioni dei cittadini hanno indotto il sindaco a prendere provvedimenti contro la maleducazione di quanti lascino che i propri cani insozzino la città senza curarsi del decoro urbano. In pratica si parte dal test salivare che i padroni dei cani dovranno effettuare obbligatoriamente presso il canile municipale. Il DNA degli animali così raccolto finirà in una banca dati che sarà usata per l'eventuale riscontro delle analisi degli escrementi abbandonati, che saranno raccolti per strada e inviati ai laboratori dell'istituto zooprofilattico abruzzese con sede a Teramo per la successiva analisi. A quel punto, con la certezza dei fatti, si provvederà a notificare la multa al padrone incivile che dovrà collarsi anche le spese relative all'analisi del campione. Francesco Menna, sindaco di Vasto, da dove nasce l'esigenza di questo provvedimento? Dalla necessità di sensibilizzare la popolazione rispetto a un fenomeno veramente assurdo, cioè che dalla mattina alla sera, spesso lungo le strade della città si trovano queste confezioni di cioccolato, chiamiamole così, lasciate dagli amici cani. Quindi è sensibilizzare tutti e soprattutto i proprietari a un decoro urbano che sia funzionale a una città turistica come la nostra. Da qui è intenzione fare un'ordinanza che obbliga tutti i proprietari dei cani al test salivare in modo da raccogliere il DNA degli stessi e nel momento in cui troviamo queste confezioni di cioccolato in giro procedere al test del DNA e risalire quindi dal proprietario con un importo da pagare tra test e sanzione sui 500 euro e oltre. Questo dovrebbe portare quindi a un maggior rispetto della città. Naturalmente il nucleo antirandagismo di Vasto già è in funzione e fa spesso dei sopralluoghi congiunti anche con altre forze dell'ordine per verificare che tutti siano muniti di museruola, di guinzaglio, di bustina per le feci, di bottiglietta per diluire le urine, perché tra l'altro ho fatto giorni fa anche un'ordinanza che obbliga i proprietari di cani a diluire le urine. Quando entrerà in vigore tutto questo? L'ordinanza delle urine è già in vigore, il nucleo antirandagismo è già in funzione tant'è che ogni settimana esce e controlla. Attualmente la battaglia sulle feci la stiamo facendo anche tramite il sistema di videosorveglianza, quindi riconoscimento facciale dei proprietari. L'ordinanza per il test salivare appena avrò il via libera anche dagli organi che collaboreranno col comune, cioè ASRI e istituzzo profilattico, a quel punto sarà in vigore. Aspetto naturalmente la ricostituzione della giunta e quindi che l'assessore al benessere degli animali si attivi in tal senso. Gli introiti provenienti dalle multe combinate saranno poi reimpiegati a beneficio della collettività, anche per realizzare ulteriori aree di sgambamento cani e installare cestini con kit di raccolta delle deiezioni canini. Secondo me è un ottimo deterrente contro questo modo incivile. Non si può pensare che i cittadini la mattina debbano trovarsi di fronte a queste situazioni assurde, così anche i turisti che in migliaia arrivano nella nostra città.